Pochi minuti fa in consiglio comunale a Pisa è stata approvata la variante per la realizzazione della nuova cittadella dello sport che sorgerà in quartiere Gagno. Allora! Approvata dalla maggioranza più il PD. Allora! Movimento 5 Stelle si è astenuto mentre l'unico voto contrario è stato quello del consigliere Cicciauletta del gruppo Diritti in Comune. Finalmente un atto importante per poter sperare entro forse il 2023 di poter vedere almeno la posa della prima pietra per il nuovo centro sportivo. Sapete le lungaggini burocratiche anche a detta dell'ingegnere del Comune comunque ci vorranno almeno 6-7 mesi di valutazioni. Quindi forza ragazzi, forza società, forza Pisa!